C'è meno di femmes nel street art, qu'est-ce che ti evoca, avresti delle ragazze per avancerci? Il fatto che sia meno nennette? Guarda, non lo so, me lo sono sempre chiesto anch'io, siamo molto poche, specialmente in Italia, magari all'estero già ne vedo un po' di più. Mi sento proprio che c'è abbastanza di pressione, una donna andando in un uomo, o un uomo facendo spray painting. Beh, anche nel mondo della street art non sentiamo mai mostra di street art maschile, non sentiamo mai graffiti in blu o in azzurro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.